A Bari il 24esimo congresso nazionale dei pneumologi ospedalieri organizzato appunto da Aipo. All'interno di questo importante congresso qui alla Fiera del Levante di Bari un ampio spazio è stato dedicato alle associazioni dei malati con le varie patologie respiratorie. Noi oggi le sentiremo e cercheremo di fare il punto della situazione su cosa l'associazionismo offre ai malati e in che modo ci si può connettere con loro e chiedere informazioni. Con me la Presidente di Respiriamo Insieme facciamo conoscere l'associazione a chi ci sta seguendo. L'associazione Respiriamo Insieme è un'associazione che è nata nel 2014. Inizialmente era un'associazione regionale che si occupava solo dell'area pediatrica mentre invece dal 2017 l'associazione è andata sempre più crescendo e dapprima si è aperta all'area respiratoria dell'adulto e poi via via è sempre un po' cresciuta nei territori circostanti fino ad arrivare alla struttura che ha oggi capillare su 10 regioni in tutta Italia. Siamo accreditati e collaboriamo con circa 14 ospedali sul territorio e abbiamo anche un protocollo operativo di intesa e di collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale e con le società scientifiche di aria respiratoria. Quali sono i punti di forza e punti di debolezza che riscontrate nei pazienti che si rivolgono a voi? Sicuramente noi abbiamo come forma di supporto ai pazienti un ascolto a 360 gradi e il tentare di dare risposta ai pazienti rispetto a tutte quelle aree di fragilità e di criticità che incontrano quotidianamente nella gestione della loro malattia. Quindi cerchiamo di essere per loro un punto di riferimento sia informativo per avere informazioni scientifiche validate, sia formativo cioè per far arrivare ai pazienti una formazione per renderli capaci e in grado di gestire la propria malattia o quella del proprio familiare perché noi abbiamo tantissimi soci iscritti che sono caregiver familiari di pazienti con patologia respiratoria. Cerchiamo di essere con loro, di supportarli nella loro aderenza al loro percorso di cura e cerchiamo di orientarli e di farli arrivare diciamo così traghettarli al centro specialistico più adeguato alla severità della loro malattia il più vicino al proprio domicilio. Quali sono i maggiori problemi che riscontrate tra chi si iscrive alla vostra associazione e quindi tra i familiari e i pazienti? I pazienti chiedono un punto di riferimento certo con delle informazioni scientifiche che siano adeguate ma chiedono anche delle risposte risposte che noi chiediamo attraverso l'associazione attraverso portando la voce dei pazienti a tutti gli stakeholder che collaborano e che fanno parte del mondo dei pazienti quindi innanzitutto alle istituzioni che dovrebbero dare dei PDTA adeguati per la cura delle varie patologie respiratorie e un accesso di cure omogeneo in tutto il territorio nazionale. Noi riscontriamo spesso che invece l'accesso alle cure sia nelle tempistiche che nella modalità è spesso diverso da una regione all'altra a volte paradossalmente anche all'interno della stessa regione quindi sicuramente le associazioni dei pazienti sono un punto a cui i pazienti trovano un supporto per dare e amplificare la loro voce. Continua il nostro viaggio all'interno del 24esimo congresso nazionale di pneumologia organizzato dall'AIP, Associazione Italiana di Pneumologi Ospedalieri stand realizzati appositamente per dare spazio anche alle associazioni dei malati adesso vi presentiamo l'associazione Morgani e malattie polmonari che cos'è, quando nasce e qual è il vostro obiettivo? Allora, l'associazione Morgani e malattie polmonari nasce nel 2008 grazie al professor Venerino Poletti per dare supporto, prima di tutto, alla ricerca scientifica per noi importantissima e sostegno ai pazienti diciamo che queste sono le nostre mission siamo un'associazione che cerchiamo attraverso l'incontro con i nostri pazienti con chi per loro di dargli supporto attraverso webinar per l'alimentazione per lo sport su questo ci occupiamo molto ma molto importante diciamo è la ricerca scientifica Una delle voci dei pazienti con apnei e disturbi del sonno è sicuramente l'associazione Apnoici Italiani che cos'è e soprattutto che tipologia di servizi offrite a chi soffre di questo problema? Allora, la nostra associazione come giustamente ha detto si occupa di apnei e disturbi respiratori nel sonno la nostra mission principale è quella di aiutare i pazienti fare attività ad advocacy, promuovere diciamo il miglioramento della diagnosi e della terapia l'occasione del 24esimo congresso della polologia AIPO è un'occasione per noi sempre importante perché ci dà la possibilità di fare networking con gli specialisti creare collaborazioni regionali, nazionali per migliorare la condizione dei nostri soci e per i medici anche una collaborazione un'automutuagliuto, chiamiamolo così Quali sono le principali problematiche che i pazienti rivolgono a voi e che chiedono di rivolgere ai medici? Nel nostro caso è una patologia molto diffusa si stimano 4 milioni e mezzo di pazienti in Italia ma solo 250 mila in terapia quindi è una patologia dall'alto impatto epidemiologico ma sottostimata e sottotrattata ci sono varie problematiche perché legate anche all'apnea notturna c'è il rischio di sonnolenza diurna quindi c'è problematiche legate all'incidentalità stradale alla sicurezza sul lavoro i pazienti diciamo in qualche modo ai pazienti esperti noi siamo tutti pazienti quindi siamo nella stessa loro condizione ci chiedono consigli spesso burocratici diciamo all'inizio sono terapie croniche quindi terapie che vengono fatte diciamo a vita quindi si hanno sempre dei dubbi e il fatto di confrontarsi con pazienti pazienti esperti che vivono la stessa condizione in qualche modo li mette a loro agio li tranquillizza quindi un po' è la mission di un automutuo aiuto Ecco, visto che hai detto che ci sono tantissimi che soffrono di questa patologia ma pochi quelli che in qualche maniera sono dichiarati ecco, che tipo di consigli possiamo dare chi ci ascolta e magari non sa che cosa fare Allora, certamente legato all'apena notturna uno dei maggiori sintomi è un russamento persistente per almeno sei mesi quindi banalmente è chiamata la patologia dei grandi russatori certamente il russamento, la roncopatia è una grande avvisaglia quindi il consiglio è questo vale per gli uoni, per le donne ma anche per i bambini perché è una patologia anche con un'altra incidenza si stima in Italia, 500.000 bambini hanno questo problema sicuramente il russamento è un grande sintomo una grande sindrome negli adulti è anche la sonnolenza è il consiglio di rivolgersi a promomedico di base per prescrivere un monitoraggio cardiorespiratorio fatto dagli specialisti ipnomologi in questo caso per valutare se c'è o no questo problema visto che poi le scelte terapeutiche sono diverse a secondo della problematica specifica di notevole importanza ovviamente tra le associazioni e anche quella che vede uniti i pazienti con BPCO accanto a me il presidente una patologia sempre più diffusa una patologia che da sempre riveste particolare importanza per la numerosità dei pazienti si stima in Italia dai 3 ai 6 milioni di pazienti affetti da questa patologia fumo correlata è una patologia che purtroppo è progressiva invalidante e che rappresenta anche una delle cause di morbidità e mortalità più importanti nell'ambito sia delle materie respiratorie ma in assoluto quindi una particolare importanza che assume nell'ambito sociale proprio questa patologia All'interno del 24esimo congresso nazionale di pneumologi ospedalieri voi che cosa chiedete? Chiediamo sempre una maggiore attenzione su questi pazienti una maggiore attenzione che noi così ricerchiamo per far sì che l'eccessiva burocratizzazione che adesso sta interessando gli ospedali, gli ambulatori rubi spazio alla vera assistenza noi vediamo che questi pazienti sono costretti a dei tour de force per avere la possibilità di accedere alle strutture ospedaliere per fare gli esami che sono diventati fondamentali non solo per gestire la patologia ma purtroppo per avere diritto alla somministrazione dei farmaci dal sistema sanitario nazionale è tutta una serie di lungaggini burocratiche di normative che poi sono poche poche importanti per poi gestire veramente la salute dei pazienti I pazienti che ci stanno seguendo che tipologie di consiglio possiamo dare? Dunque innanzitutto la cosa fondamentale di un corretto stile di vita è nel nostro caso come in tutti i casi l'assoluta abolizione del fumo il fumo di sigaretta, il fumo di tabacco ma anche il fumo di altri tipi di sigarette le sigarette elettroniche le sigarette a tabacco riscaldato tutte cose che noi mi piacerebbe dire vietiamo sconsigliamo vivamente abbiamo visto che appunto c'è una grande percentuale di fumatori duali che usano tutte e due questi fami ma soprattutto la cosa che ci preoccupa è l'approccio dei giovani a questo tipo di fumo che poi si trasforma spesso in un fumo reale di sigaretta tradizionale che è appunto un danno reale inevitabile a livello polmonare Tra le associazioni presenti qui all'interno del congresso dell'Aipo anche l'associazione pazienti di Chark Strauss una patologia poco conosciuta però importante vogliamo descriverla? Sì, allora la Chark Strauss che ora ha una nuova una nuova definizione una nuova dicitura è GPA che sta per granulomatosi e osenofilica con poliangite è una malattia del è una vasculite che coinvolge i vasi sanguigni di piccolo e medio calibro è una malattia rara difficile da riconoscere perché tutti i pazienti tutti coloro che hanno questa diagnosi ce l'hanno dopo molti anni da quando escono fuori tutta una serie di sintomi che sembrano diversi tra loro distaccati tra loro e invece sono poi i sintomi di questa malattia tra questi sintomi cito quelli più importanti che sono l'asma anche grave i polipi nasali un'eosinofilia molto alta e altre patologie che diciamo sembrano distaccate e quindi la storia di molti pazienti della Chark Strauss è una storia di sofferenze di difficoltà nelle cure e poi dopo molti anni trovano fra virgolette in qualche caso per fortuna un dottore che mette insieme tutti questi sintomi e dà questa diagnosi che poi va trattata con dei farmaci opportuni per ridurre l'eosinofilia questo disturbo autoimmune e per cercare tenendo sotto controllo questa malattia che fino a qualche anno fa poteva rivelarsi anche fatale tenendola sotto controllo riescono anche ad avere una buona qualità di vita ecco quindi è importantissimo fare una diagnosi precoce anche se non è facile perché abbiamo capito che non è facile individuarla subito visto che ha tanti sintomi insieme sì ha tanti sintomi purtroppo neanche insieme certe volte questi sintomi si presentano che ne so a due o tre anni di distanza l'uno dall'altro e quindi complica la capacità di diagnosi dei dottori per collegare tutta questa corte di disturbi e farla diventare una diagnosi unica tra parentesi essendo molto rara c'è un problema con i con i dottori di medicina generale molti dei quali giustamente non l'hanno mai incrociata perché è davvero una malattia rara ufficialmente rara e quindi il ruolo della nostra associazione è quella lì di sensibilizzare un pochino tutti i dottori e naturalmente quando una persona riceve questa diagnosi si sente spesata si sente perduta e grazie a questa nostra associazione riesce un pochino a inquadrare qual è il suo futuro noi diamo suggerimenti e indirizziamo questi nuovi pazienti verso i dottori e gli specialisti opportuni che fanno che entrano nel nostro board scientifico tra le associazioni presenti qui all'interno del congresso dell'Aipo anche l'associazione pazienti di Chark Strauss una patologia poco conosciuta però importante vogliamo descriverla sì allora la Chark Strauss che ora ha una nuova una nuova definizione una nuova dicitura è GPA che sta per granulomatosi e osenofilica con poliangite è una malattia del è una vasculite che coinvolge i vasi sanguigni di piccolo e medio calibro è una malattia rara difficile da riconoscere perché tutti i pazienti tutti coloro che hanno questa diagnosi ce l'hanno dopo molti anni da quando escono fuori tutta una serie di sintomi che sembrano diversi tra loro distaccati tra loro e invece sono poi i sintomi di questa malattia tra questi sintomi cito quelli più importanti che sono l'asma anche grave le polipi nasali un'eosinofilia molto alta e altre patologie che diciamo sembrano distaccate e quindi la storia di molti pazienti della chargostaus è una storia di di sofferenze di difficoltà nelle cure e poi dopo molti anni trovano fra virgolette in qualche caso per fortuna un dottore che mette insieme tutti questi sintomi e dà questa diagnosi che poi va trattata con dei farmaci opportuni per ridurre l'eosinofilia questo disturbo autoimmune e per cercare tenendo sotto controllo questa malattia che fino a qualche anno fa poteva rivelarsi anche fatale tenendola sotto controllo riescono anche ad avere una buona qualità di vita ecco quindi è importantissimo fare una diagnosi precoce anche se non è facile perché abbiamo capito che non è facile individuarla subito visto che ha tanti sintomi insieme sì ha tanti sintomi purtroppo neanche insieme certe volte questi sintomi si presentano che ne so a due o tre anni di distanza l'uno dall'altro e quindi complica la capacità di diagnosi dei dottori per collegare tutta questa corte di disturbi e farla diventare una diagnosi unica tra parentesi essendo molto rara c'è un problema con i con i dottori di medicina generale molti dei quali giustamente non l'hanno mai incrociata perché è davvero una malattia rara ufficialmente rara e quindi il ruolo della nostra associazione è quella lì di sensibilizzare un pochino tutti i dottori e naturalmente quando una persona riceve questa diagnosi si sente spesata si sente perduta e grazie a questa nostra associazione riesce un pochino a inquadrare qual è il suo futuro noi diamo suggerimenti e indirizziamo questi nuovi pazienti verso i dottori e gli specialisti opportuni che fanno che entrano nel nostro board scientifico che fanno Grazie a tutti.